Musica Bella a tutti ragazzi Eccoci qui nel mio canale per un nuovo episodio di Infamous Last Light Sembra che questo sia l'ultimo visto che dobbiamo uccidere i camion della droga di Sien Quindi credo che dopo si andrà da Sien e si risolveranno tutte le cose Vedremo un po' cosa succede ragazzi Qua intanto ci sono i nemici, uccidiamoli subito sopra il tetto che magari sono cecchini infatti dal fucile sembrissi E dobbiamo distruggere il camion, vabbè Ci distruggere normalmente credo Ok vediamo vediamo Ci distruggere intero, fuori Cos'è che bisogna distruggere? Boh Tanto ci diamo anche i nemici magari Ragazzi butta anche la bomba Mi fai un favore Sì vabbè bomba di fumo Ah forse bisogna distruggere tutto questo qua dentro Ok Forse bisogna distruggere, uccidere i primi nemici Non lo so, proviamoci ragazzi Cioè neanche così si distruggere Vabbè Ora Distruggiamo E uccidiamo i nemici Cosa distruggiamo? Basta distruggere Ma io vorrei far prima scoppiare il camion Così che i nemici dopo non rompono i coglioni Ma visto che non si può Perché questi qua rompono il cazzo Vaffanculo anche il fuoco Quindi bisogna distruggere tutti i nemici ragazzi prima Poi bisogna tracciare la roba Oh cazzo è un po' difficile Ok Ok Perfetto Wow Davvero figo Bello Prossimo camion Tutti e loro bisogna farli Se sono sei Ok Ehi cavo Che sorpresa Dobbiamo parlare No basta chiacchiere Vuoi parlare? Parla alla tua droga sparsa ai 4 venti Ti fanno bene? Di certo Addio amore Ehi non riattaccare Ok Prossimo camion ragazzi E' easy E' molto easy Mi sembra strano che la missione sia così Fai semplice ragazzi Vediamo il da farsi Insomma adesso Comunque Comunque Ce ne sono altri Visto che O posso distruggere la droga Dai ti levi Ma che cazzo fa? Se la stava portando via Guarda che roba Ma è pozzo Anche la gente che se la porta via Non so io ragazzi Facciamo un altro graffito ragazzi Vediamo cosa ci disegneremo Questa volta Cos'è? Oh un serpente Molto Molto Belli ragazzi Davvero Quindi ragazzi Stami a sentire Se distruggi un altro camion Tagli una mano a Brent Capito? Non gli farai del male No? Mettimi alla prova Cosa credi stia facendo? Senza di lui Non hai più nulla E dico nulla Che ti protegga da me Non puoi torcergli Neanche un capello Continua a distruggere La mia merci Te ne pensierai Anche tu A rompere i coglioni Comunque ragazzi Ricordatevi Non drogatevi Perché sennò succedono Sti casini qua Quindi Non drogatevi E' tutto a posto Dai cazzo Che cazzo rompe sto qua? Oh Pazzo Neon Che recuperiamo le scorte In caso dopo Siano più difficili C'è anche la macchina in mezzo Che rompe Ma noi ce la facciamo lo stesso Ok Altro Volevo fare il graffito Vediamo cosa disegniamo Ragazzi Vediamo un po' Cos'è? Non ho capito bene Adesso vediamo un po' meglio Oh Droga porta alla morte Ogni Sono significato Ogni Graffito Ragazzi Altro camion Spang E dai Cazzo Che voli sto qua? C'è anche il 2p adesso Ma what the fuck? Mi piace anche il 2p? Se ne frego Faccio la bomba nucleare qua E siamo tutti contenti Spang Grandissima Perché non posso fare l'aerografia? Ah Ci fa dall'altra parte Cosa cambia? Cosa cambia? Vabbè Contenta te Contenti tutti Cos'è? Vediamo un po' Buttare via i soldi Bruciare i soldi Ragazzi Oh cazzo C'è anche altra gente qua Ciao ciao Anche a te Perché lo stai facendo? Consegnami il 3p E' tutto finito No 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 Consegnati al 2p E a quel punto lo libererò Farò la risca Mi dispiace Facciamo altri graffiti Prima di studiare la marcia dentro Poi facciamo gli aerograffitti Gli aerograffitti Così gli aerograffitti ragazzi No i graffiti ragazzi Abbiamo avuto quello che Si è venuto dietro quindi Ci risparmia anche strada Meglio così ragazzi Questo è un peschio Vediamo cosa ci disegniamo Sopra Una siringa che gli perfora l'occhio ragazzi Il cervello Andiamo a trovare L'ultimo camion ragazzi Oh ciao sto cercando della droga Ah ops Tu ne hai più Il QP ti è addosso Sanno che stai cercando le mie scorte Non ti resta che scappare Pensi gli possa interessare Conoscere la natura delle tue scorte Sono leggermente illegali Allora non importa di me Vi interessano soltanto i mostri Tu sei la fredda Io sono solo uno delante Chiuderanno sicuramente un occhio Ho tenuto ciò che vogliono Che stronzo che è scendere ragazzi Che stronzo davvero ragazzi Dove è l'ultimo? No ok Andiamo ragazzi E facciamogli il culo All'ultimo camion E ho paura a vedere se è difficile Perché hanno detto che c'è anche il DUP Quindi Occhio 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 Sbang Grandissima Fecce Grandissima La vippona qua Dai cazzo Prendili però Sta schivando Cazzo Quanta gente Non ho neanche L'anomalia là Se me la dassero Magari Facciamo una mossa speciale Visto c'è più gente che Qua che non so dove ragazzi C'è Neanche le maratone di Di corsa C'è così tanta gente Non lanciare il fumo Palle che sono Cazzo stiamo per morire ragazzi Stiamo per morire Via da qua Via 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 E non seguirmi Stronzo Cazzo C'è chi no? Scusa Scusa Grazie Fa un favore Ok Anomalia disponibile Beh se ne resta uno solo Neanche la uso Vabbè sono tre ragazzi Neanche la uso per questi No vabbè Adesso si però cazzo Sono in Porca vacca Quanta roba Vabbè adesso la uso Dai Appena passano questi qua Se non li uccidiamo così Sono tre Sono tre Sono solo tre Cazzo vuole sto qua E vorrei distruggere il camion Sai com'è? Posso Ti rompe così tanto Se distruggo il camion Cazzo ho finito il neon Guarda che sfiga Con l'ultimo ho finito il neon Dai Mori Eh vabbè adesso la uso Pro cazzo Porca puttana Venite all'infinito Adesso voglio vedere Se ce ne sono ancora vivi Eh tizio Ascolta Basta Ok distruggiamo Ancora Oh ma che balle Oh che sei Ultimo ragazzi Diavolo Qualcuno risponda Andiamo a fare il graffito Ok Questo è il graffito Che è per Brent ragazzi Dai Cazzo Se riesco a prenderlo Tutto dedicato a te Brent Dai Porca Porca Oh Oh Wow Che spettacolo Ragazzi Davvero 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 Fico Davvero Adesso Cosa bisogna fare Hai chiamato i tuoi camion Shane Qualche risposta Strozza Quando avrò finito La tua banda Sarà all'osso Una persona sola Può considerarsi Una banda Va bene E me che vuoi Sono il crocodile Vieni a prendermi E giuro sulla tomba Di mia madre Che ridipingerò Il locale Con il tuo cervello A neon Ok ragazzi Andiamo a prendere Shane E facciamogli il culo Adesso Gli rompiamo il culo A Otto Party Neanche in due A otto Party Let's go Let's go Let's go Dai che questo è l'ultimo episodio Ragazzi Allora Poi ci sarà FIFA Poi ci sarà Destiny GTA Come vi ho scritto Nella pagina Ci sono Un paio di cosette nuove Ragazzi Quindi Occhio Dai così Dai 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 che sono gli ultimi scagnozzi questi Non valgono una sega ragazzi Dai Chi è che rimane Nessuno Nessuno Ok Entriamo Ma che cazzo Succede Oh 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 Se vabbè ciao Che cazzo è Oh scappiamo Via 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 Da qua Come cazzo Gli uccido È troppo piccolo Sto robo qua Perché si vede così adesso Porca vacca Non sto capendo più Cazzo Non sto capendo più niente Sto anche morendo Oh ma vaffanculo Stiamo qua dietro un attimo Finchè mi Mi sceglie già non po' di vita Perché si vede così Mi ha drogata Cazzo No ma vaffanculo Cazzo Come cazzo è che si chiama Shannon di merda Porca puttana Ti odio Ti odio Con tutta l'anima Dai cazzo Quando è che muoiono Per quanto ancora Voi nasconderti Non hai un minimo di fegato Sì meglio cos'è che devo fare Distruggeli tutti Non ho ancora capito Cosa devo fare Sfida completata Cicchino infallibile Vabbè Bene Ne rimangono due Tre Due Dai Quanti ne mancano Oh ragazzi Non so Quanti ne mancano qua Ah Ok Finito Quella non è la casa Dei miei genitori Sta succedendo Ora ricordi Mamma Papà Non possiamo nascondere la cosa Mickey Hai ferito una bambina Quando ti arrabbi Perdi il controllo Tuo padre ha ragione È per il tuo bene Hanno chiamato il dio Mi hanno scaricata Perché era un problema Mamma Metti giù il telefono Non puoi farle questo È tua figlia Ero solo una bambina Ma che cazzo succede Mandati il loop Oh ci ripeto l'infinito Ragazzi Mandati il loop Devo girarmi Non andare indietro Cazzo che devo fare Vediamo andare indietro Ragazzi C'è qualcosa Dietro Sì c'è qualcosa Dove? Non piangere Il dio più troverà una soluzione Lei ce l'ha promesso Lei dov'è? Vecchi Scappa Dai Non ti ammandarsi Nessuno mi porterà Mi porterà Posso battervi tutti? Non ti abbandonerò Il fetticcio Non vuoi prendere Le cose delle ragazze Non è Non è Pensi No Barbara Dove diavolo è? Prego Calda Calda Ti chiamo Sorellina Mi dispiace Ero confusa, avevo delle visioni. Jane mi ha costretto. Tranquilla. Non è colpa tua. No. Ho bisogno di te. Non ce la faccio da sola. Sorellina. Mi dispiace tanto. Oddio, Brent. È lì che ti abbiamo trovato? Era stato Shane. A prendere Brent. È colpa sua se alla fine hai perso il controllo. Se tu potessi, lo uccideresti? Allora farlo. Faccio. Fammi un favore, piccolo. Potresti dire a questa bambola che sono un uomo assolutamente normale? Conosco la tua storia. Parola di Scout. Ma dovevi ripercorrerla. Per tornare al momento in cui ti sei arresa. Maledizione, non sono uno di quei vostri. No produce... Ma dovevi. Papaglia. Cap al mio falso di un ciclo. Loro fai! Bambu! Ma dovevi? No, no. Alzati. Tango 1, ho il versaglio. Il detenuto si dirige a Oves sulla 102 con un APC-13. Sì, cerisco il posto di blocco. Passo. Giù le mani, pezzi di merda. È mio. Andiamo assolutamente a prendere scene, ragazzi. Dobbiamo ucciderlo. Decapitarlo. Massacrarlo di botte. Non so più cosa dire di scene, ragazzi. Davvero è un coglione, uno stupido. Ho anche perso il potere, ragazzi. Non posso più fare niente. Non so neanche come lo dobbiamo uccidere. Andiamo su per di qua, ragazzi. Credo bisogna fare così. In teoria. Adesso vediamo se è giusto. Magari evitiamo di cadere, ragazzi. Comunque, ho perso il potere, ragazzi. Non so come si fa a... A riacquistarli. Deve esserci il neon da qualche parte. Però in mezzo alla neve dubito, ragazzi. Quindi non lo so come si svolgerà la situazione. Vedremo un po'. Intanto corriamo, ragazzi. Andiamo fino a là. Dopo ci andrà su. Presumo un bongo. Credo di sì. Però è dura. Farsela tutta a piedi. Invece qua è chiuso. Qua c'è un ascensore. Aha! Trovato l'ascensore. Questa è molto un po' più semplice. Vabbè. Mi ha fatto fare quanto? Dieci metri? Vabbè. Meglio di niente, ragazzi. Meglio così. Scaliamo. Anche se è un po' difficile, perché... A male gli hanno sparato. Come si teneva. Credo gli abbiano sparato. Sero a seguire la PC-13, ma nessuna traccia di walk. Ricevuto. Abbiamo inviato i droni a cercarla. Ma fate attenzione in strada. Con questa tempesta abbiamo difficoltà a tenerli in volo. Ricevuto. Ok, ragazzi. Ci sono i droni. E forse riusciamo a recuperare un po' di neon da loro. Vedremo un po', ragazzi. Magari bisogna schivarli, perché sennò ci scoprono. Non lo so, ragazzi. Vediamo un po'. Oh, cazzo. Ma vaffanculo. Oh, stronzo di merda. Vieni qua. Guarda, non posso spragli. Oh, stronzo di merda. Vieni qua. Subito. Stronzo, vieni qua. Come cazzo faccio a prenderlo? Anche se li vado dietro. Come cazzo faccio a prenderlo? Oh, coglione. Vieni qua, subito. Drone di merda. Da, ti è. Ti sta bene. Pezzo di merda. Assorbiamo il neon, ragazzi. Eh, che figata. Adesso, cosa dobbiamo fare? Anomalia? Ok, usiamo l'anomalia. Che figata. Possiamo anche volare adesso. Ma che roba. E adesso? Dobbiamo fare fuori tutti quelli che restano. Facciamo il culo direttamente, ragazzi. In maniera molto proporzionale. Riusciti in 100? Bene, io ho la forza elevata da 100. Pronti a morire? Let's go, let's go, let's go, fetch. Let's go. Potrei andare avanti, però... Quasi quasi ne uccido. Perché per rendere questa ultima parte più difficile, almeno credo, si possono andare avanti anche se si uccidere. È l'ultimo? No, là c'è il coglione. Ecco, finiti. Andiamo avanti, ragazzi. Proseguiamo. Ripeto, è distrutta. Nessun segno di Walker. Qua si va sopra, ragazzi. Tutto ghiacciato. Un altro drone, ragazzi. Così ci prendiamo... No, vaffanculo. Così ci prendiamo un po' di energia. Un po' di neon. Così siamo più forti perché ci spediamo 4 razzi addosso. 40 colpi speciali. Oh, madonna, quanta gente c'è? Oh, mi servirebbe la mossa speciale. Cazzo. Oh, drone! Un po' di razzi qua e là. Per distogliergli. Comunque, 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 ragazzi. Grazie da ancora di tutto il supporto che mi date. Intanto vi ringrazio. E spero apprezzate i video che faccio perché ci metto davvero molto impegno. E questo video spero riesca a uscire per stasera. Quindi oggi è il 23. 23 di che giorno? Sì, vabbè, di che giorno. Martedì, martedì 23, ragazzi. Spero riesca a uscire per stasera. Perché davvero ci tengo che riesca per stasera e farò il possibile perché riesca stasera. Scusate se sarà un po' verso tata ora, però spero potrete capire, ragazzi. Non so parlare. Allora, qua ne mancano un paio, ma cerchiamo di... occhio, occhio, che non ci succedano proprio adesso che dopo bisogna ricominciare tutto. No, no, scherziamo. Recuperare, recuperare, recuperare. Perfetto. Mi manca poco l'ho per l'anomaliero, ragazzi. Così dopo siamo... Ok. L'anomaliero è disponibile. Siete fottuti. Ripeto, siete fottuti. C-13, ferma subito il veicolo. Non avete sentito la radio? Perché credete che Fetch sia sul sacchiero di guerra? Ah? Mi sta cercando? Ferma il veicolo o apriremo il fuoco. Se accosto potrete leggermi niente e moriremo tutti. Quindi continuerò a scappare e poi ad inseguirmi. Ma quantomeno terrò lontana da me, quella puttana là là. E come Shin, scusa, puoi ripetere? Escolta, già sono incazzato con te Shin davvero in maniera assurda. Cerca di non farmi girare i coglioni ulteriormente. Sai Shin? Davvero te lo consiglio per... Per niente, perché ormai si è spezzato. Quindi... C'è chi non romper, eh? Andiamo avanti ragazzi e vediamo il The Force. Madonna. Oh no, se fossero nemici. Per fortuna di no. Oh cazzo, sì qua c'è nessuno però. Occhio, 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 occhio. Che sembra avesse bazooka sto qua. Meglio eliminarlo. Eliminare minaccia. Si fida completa ragazzi. Un'altra. Vedi dopo ci potenzieremo... Ci sono anche gli elicotteri? Ehm... Ma dove cazzo devo andare? Qua sopra. Dove... Ah. Di qua? Invece no. Guardi qua. Normale ma... Stavo andando prima o non so. Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Dai. Non fa niente. Oh oh oh. Scusa drone, dammi un attimo la roba. Mi servono... Ah, vabbè. C'era anche l'altro. Vabbè sti cazzo, prendiamoli tutti e due. Come scusa? Eh, vaffanculo. Eh, vaffanculo. Vaffanculo, mi dispiace. Sarai distrutto precisamente. Ora. No, ora. C'è un altro colpo ragazzi. Dobbiamo sparargli un altro prozzo. Dove cazzo sei? Aspetta che mi prenda qua il neon. Dove sei? Elicottero. Elicottero. Ma vaffanculo, elicottero di merda. Cerca di crepare precisamente ora. Grazie. Che bitch che è. Che bitch. Dico l'elicottero, non fecce. Oh cazzo. Beh, usiamo questo. No problem. Con il nostro superattacco fighissimo. Che facciamo? Ben grandissima fecce, grandissima. Oh cazzo, però ce ne sono molti cazzo. È un po' difficile sopravvivere. Ne vedo parecchi ragazzi. Oh cazzo, anche questi qua. E poi l'apc30 è distrutto. Quindi dobbiamo... Cazzo, cazzo anche l'elicottero. Ma fanculo. Mattia che è esplosa anche lui. Ho sparato due razzi. Volevo vedere se non esplodeva. Ehm. Comunque ragazzi. Ehm. L'apc30 è distrutto. Quindi spero che se non l'abbiamo ucciso. Perché sennò questa strada non l'ho fatta per il cazzo. Quindi spero che dopo lo potremo uccidere. Finalmente. Cazzo, cazzo, cazzo. Che qua moriamo di nuovo. Dai porca puttana. Venite qua e cercate di non rompere il cazzo eh. E già questo episodio sono morto una volta. Cerchiamo di morire due volte per favore. Ok, questi qua, che erano i più grossi, sono stati distrutti. Questo qua cos'è? Cos'è? Ah, un drone. Pensavo qualcosa di... Di stranamente... Alieno, non so. Sono gli ultimi tre. Sembrano anche facili questi. Non fanno più che tanto. Sono stregoni. Non so. Boh, qualcosa... Il gioco li chiamo alieni, quindi. Quindi sono alieni. Io ho finito tutti gli attacchi. Abbiamo solo quella con il laser qua, però. Se le copriamo queste magari, riusciamo a prendere due razzi. Oh, cazzo, cazzo. Via, via, via. Spari i razzi e vattene. Ok. Quanti ne mancano? Due. Cazzo, anche quello rosso però. Palla. Io andrei da prima con quello più... Più... Che non è grosso. No, ok. Sì. Spang, grandissimo. Attacco speciale. Lo usiamo con questo? Vai. Ok. Finito. Ok. Dobbiamo raggiungere Shin. Stato Walker, negativo. La tempesta si avvicina. La prenderemo quando sarà passata. Ok. Grazie mille. Andiamo piccola, parliamole, troviamo una soluzione Stai indietro, bella nazione, non ho paura di una tossica Tutto qui, stronza Avrei dovuto ucciderti subito Brent è morto L'erloce sono, s'è stata tu Mi distombrate S'è stata rotta S'è stata rotta Abbiamo il detenuto Il bersaglio civile è stato giustiziato Bene, ora è pronta S'è stata rotta S'è stata rotta S'è stata rotta Ok ragazzi Allora È finito ragazzi Spero vi sia piaciuto il video E se è così Allora lasciate un bel mi piace Un commento Vi ricordo sempre di iscrivervi se ne avete ancora fatto Di passare prima di un piacere a Facebook E qui Da Infamous Last Alight è tutto Bella ragazzi Di quest'artrici Bella Ciao Ciao Ciao